Fiera del Parmigiano Reggiano, terra, mani e passione. A Casina torna l'evento più atteso. Ogni anno, lungo le strade del paese, musica, spettacoli per grandi piccini, stand gastronomici, mostre sfilata e storia. E' lui il re, il Parmigiano Reggiano. Se ami il gusto e la passione, la Fiera del Parmigiano Reggiano fa per te. Tutte le info sull'app Vivere Casina e sulla pagina Facebook della Fiera. Grazie.